Buongiorno e benvenuti a questa lezione in cui vedremo alcuni esempi relativi a React e con i quali concluderemo questo corso di applicazioni web per prima cosa andiamo a vedere l'esempio che abbiamo portato avanti durante le lezioni che è il React Scores come sapete e come forse avrete già notato ci sono diverse versioni con le quali è stato realizzato questo esercizio l'ultima da poco pubblicata è quella con gli Ux come sapete non è necessario usare gli Ux per quanto riguarda la prova d'esame se lo desiderate potete farlo e come abbiamo detto nella lezione degli Ux questi possono essere usati anche solo parzialmente, solo per alcuni componenti e così via nel momento in cui selezionate il branch corretto del progetto avete la possibilità di vedere i file relativi a tale branch e in particolare in questo andiamo adesso a vedere come ho convertito tutti i componenti i componenti di tipo funzione ho usato gli Ux e quindi quali sono le peculiarità di questo esempio cosa che tra l'altro mi è stata chiesta in una delle varie video chat e quindi vale la pena approfondire un po' più nei dettagli il funzionamento di questo esempio perché è appunto diciamo forse l'esempio più completo oltre ovviamente a quelli che avete svolto nel laboratorio che però appunto avete svolto più che altro per conto vostro che abbiamo a disposizione all'interno del corso mi sposto quindi sul Visual Studio Code voi se siete meno pratici della gestione del Git dal Visual Studio Code potete sempre avendo selezionato il corretto branch fare download zip e aprire la relativa cartella quindi Visual Studio Code ho il doppio schermo ok quindi sono nel React Scores che è dove tengo il progetto with Ux è il branch corretto quindi controllate sempre qui in basso che sia corretto se l'avete scaricato non con lo zip ma con lo git ecco e possiamo anche usare un workspace e quindi aggiungere una seconda cartella al workspace che è comodo per non dover sempre cambiare diciamo visualizzazione quindi aggiungo anche quella del server ok quindi avrò React Scores e React Scores Server qui nel workspace che se volete poi potete salvare possiamo salvarlo giusto così per diciamo React Scores all così ma ok bene direi che la prima cosa da fare è assicurarsi che tutto funzioni quindi andiamo sul terminale io ci serviranno due terminali andiamo sul terminale appunto perché ce ne servono due uno per lanciare React Scores e uno per lanciare React Scores Server che io ho scaricato qui quindi React Scores Server lo lancio con Node Server JS e React Scores lo lancerò con NPM Start ok questo mi aprirà automaticamente la mia applicazione solo che lo fa sul secondo schermo ops quindi ci manca qualcosa evidentemente ho fatto qualche pasticcio Kent Resolve React Router DOM probabilmente non è messo nella lista dei pacchetti package JSON quindi probabilmente non sarà no c'è quindi si vede che non ha funzionato il npm install dunque in realtà sembra che tutto funzioni io ho rifatto npm install quindi l'ho rilanciato si vede che c'è stato qualche piccolo problema da qualche parte che non vale la pena investigare nel momento in cui poi funziona ci sarà stato qualche piccolo problema io adesso lo rilancio e partirà ecco e questa volta parte senza problemi quindi lo lancio in Firefox manualmente automaticamente vi si apre Chrome semplicemente perché mi trovo meglio ma per voi fa lo stesso usate il browser nel quale vi trovate meglio avete la console avete network e proviamo l'applicazione come sempre prima di iniziare login ok quindi abbiamo l'opportunità di modificare abbiamo l'opportunità di aggiungere qualsiasi data ok abbiamo l'opportunità di uscire abbiamo anche l'opportunità di fare queste azioni direttamente dalla barra del browser giusto per vedere per farvi vedere come ho poi organizzato il codice oppure nel momento in cui siamo autenticati quindi se io metto il login automaticamente l'applicazione capisce che sono autenticato non mi richiede il login e mi porta sulla pagina con tutti i dettagli questa è la update che se richiamo io viene richiamata vuota e che se richiama lui viene richiamata con l'informazione dell'esame come avete visto e adesso andiamo a vedere come ciò è stato implementato ok quindi questa è l'applicazione funzionante quindi qui siccome usiamo il diciamo il solito create react app vediamo gli errori sia qui sia nella console del browser e queste sono le richieste che arrivano dalle prove varie che abbiamo fatto possiamo ora andare a vedere all'interno di src il codice dei componenti di maggior interesse andiamo a vedere cominciamo da app che è la cosa forse più naturale quindi ridimensiono ok da fare quanto più possibile tutto a parte i soliti import eccetera questa è la versione con gli ux quindi già che commento commentiamo l'ultima versione che ha trasformato tutti i componenti in componenti di tipo funzione quindi ho usato gli ux e tutti tutti gli stati che c'erano prima sono stati trasformati diciamo con la modalità degli ux usando la funzione use state quindi gli esami corsi eccetera il login status il loading error message e csrf token ok notate che il login status così più che altro per fare esercizio diciamo così è stato fatto come un oggetto e non come tre variabili separate sarebbe stato tranquillamente possibile fare tre variabili separate quindi due boolean è una stringa ma non l'ho fatto semplicemente per una questione di esercizio così vediamo tutte le varie possibilità e capiamo anche le varie differenze tutto nel momento in cui abbiamo i componenti di tipo funzione deve essere trasformato in fondamentalmente variabili che eventualmente contengono una funzione quindi non possiamo più scrivere function qualcosa chiaramente usiamo sempre le error function salvo dove eventualmente non non si dovesse fare ma non mi sembra di ricordare alcun posto dove diciamo anzi questo può solo creare problemi eventualmente se vi ricordate dei componenti di tipo classe quindi tendenzialmente usiamo sempre la row function su questo torniamo poi dopo ecco la prima cosa che voglio farvi vedere è diciamo come abbiamo trasformato il component hit mount che è la prima cosa che viene eseguita nel momento in cui il componente viene montato da react e quindi è in questo caso è app e quindi il primo componente e sapete che si usa con gli use effect quindi ho preso ciò che c'era nel componente hit mount se voi andate a vedere le altre versioni lo fate magari da web che è un po' più comodo in particolare la precedente il with router e ho messo qui dentro sotto forma di funzione perché passiamo una funzione quella funzione non ritorna niente di particolare perché non abbiamo niente da togliere diciamo nel momento in cui il componente viene smontato ecco una cosa che ho messo per simulare il with mount è l'array vuoto cioè non ci sono dipendenze quindi verrà richiamato questa funzione solamente in fase di mount attenzione che se lo fate senza fare nient'altro vi verrà fuori un warning che potete eliminare con questo specifico warning esattamente così come lo vedete qui e questo è un caso un po' particolare e diciamo che react è molto come dire attento nel ricordarci e farci presente eventuali potenziali errori questo l'avrete già visto nella console molto spesso vengono fuori dei warning questo è un aiuto ma in questo specifico caso non è diciamo non è corretto dire che appunto bisognerebbe listare delle dipendenze perché non vogliamo farlo esplicitamente quindi non usiamo lo use effect per far richiamare periodicamente questa funzione ma solo al mount del componente le funzioni che avete visto prima sono richiamate qui dentro quindi c'è questa load initial data che sostanzialmente carica le informazioni relative agli esami corsi agisce anche sullo stato quindi loading che abbiamo detto di usare se lo ritenete opportuno e richiama in caso di errore l'endol error errors anzi che andrà a gestire le operazioni fondamentalmente modificando gli stati anziché fare la set state qui è stato tutto modificato con i vari set eccetera che abbiamo impostato negli ux eliminiamo la finestra sotto che non serve poi ci sono delle funzioni che già c'erano prima quindi niente di particolare fate solo attenzione che tutte le volte che c'era un asse state è stata cambiata in set quello che è necessario fare ora e non ci saranno più i this punto perché questa è una funzione pura quindi stiamo definendo delle variabili ed eventualmente le useremo per richiamare le funzioni quindi il this non c'è più quindi questo è il codice che già c'era prima ecco forse vale la pena di soffermarsi un attimo per esempio su questa set login status che fa il set di uno stato che era quell'oggetto l'oggetto un po' più complicato anziché una singola variabile e notate che io metto questo oggetto è fatto di tre campi sloggedin user che è il nome dell'utente correntemente autenticato per farlo visualizzare nell'interfaccia e login error il sloggedin lo voglio setterà false user lo setto a vuoto perché dunque questa era la la funzione era logout e login error in realtà non lo voglio modificare ma ricordate che abbiamo detto nella lezione che gli ux fanno sì che tutto il valore venga sostituito non viene fatto il merge come l'asset state e quindi se voglio conservare il valore precedente devo andarmelo a prendere dalla variabile login status punto login error e glielo assegno quindi devo farlo io a mano ok stessa cosa no qui non è la stessa cosa perché name è passato nel momento in cui un utente viene autenticato che l'ho imposto eccetera quindi qui l'ho fatto per puro diciamo così esercizio avrei potuto fare tre variabili separate e questo è il router ecco vale la pena credo di commentare anche il router che è rimasto inalterato dalla versione precedente che già conteneva il router senza appunto gli ux però vale la pena di commentarlo perché appunto il router è una cosa che sarà sostanzialmente richiesta per l'esame quindi vale la pena di capirlo e poi diciamo è richiesto per un qualsiasi diciamo esercizio di una certa complessità altrimenti non si capisce più nulla ecco riguardo allo stato di navigazione dell'applicazione quindi ecco notate prima di adentrarci nel router che nei vari stati non c'è più il mod ricordate che c'era mod non c'è più no mod add anzi era add view eccetera solo a più solo a più nello stato di navigazione con il react router ok quindi mi raccomando quindi questo è sparito e deve sparire questo modo di navigazione perché e se no il router non ci serve a nulla o stiamo facendo un misto tra il router e lo stato che ovviamente ci porterà poi solo delle complicazioni quindi io ho deciso di strutturare l'applicazione in maniera abbastanza semplice come avete visto nell'esempio precedente quindi c'è il router che ha uno switch e ha tre route login update e slash e basta login ci mostrerà il login però ho voluto fare una sottigliezza l'avete visto prima se siamo autenticati non ci mostra il login ma ci manda su slash e questo è stato ottenuto in maniera relativamente semplice come vedete con del codice nel render quindi il render se riconosce che nello stato c'è scritto autenticato ci manda su slash e quindi ci mostrerà la lista degli esami altrimenti ci mostra il componente di login e passiamo la funzione che ci consentirà poi di impostare l'informazione relativa all'utente autenticato quindi is logged in lo status lo mettiamo true e soprattutto ci recuperiamo il name e questo perché vogliamo mantenere questa informazione di utente autenticato nel componente app e quindi per fare questo usiamo il solito metodo di passare la funzione come props del componente bene root update qui ho fatto un'unica root update avrei potuto anche farne due avrei potuto fare insert e edit oppure add edit ho deciso di farne una sola perché il codice prima era strutturato in questa maniera vi ricordate che nel componente dell'examform o meglio nei suoi sottocomponenti c'era un sostanzialmente un if che diceva se exam è settato vuol dire che c'è un esame da editare altrimenti vuol dire che c'è un esame da aggiungere quindi non impostiamo nulla nel form questa cosa si può ottenere in maniera relativamente semplice di nuovo con una funzione collegata al render quindi che ci ritorna un qualcosa che dipende dal da quello che viene passato a questa funzione perché abbiamo bisogno di andare a prendere questo prop location state prop location state sarà impostato nel momento in cui clicchiamo sul bottoncino di edit vi ricordate questo qui il bottoncino di edit vedete è update qui in basso a sinistra update è sempre l'update ma sarà impostato nel router da javascript con uno stato dopo lo vediamo siccome possiamo arrivare su questo update anche diversamente quindi senza avere impostato lo stato perché con il più non impostiamo lo stato quindi con con la parte più qui non impostiamo lo stato ma è sempre update notate lì l'update oppure qualcuno ce lo scrive sulla barra dell'url update in questo caso in questo caso tra l'altro notate che potete sempre andare a controllare diciamolo lo stato app quindi in questo momento non siamo autenticati quindi questo forse si poteva gestire diversamente si poteva rimandare anche in questo caso sulla root slash diciamo ve lo lascio per esercizio se noi però ci arriviamo quindi andiamo ad autenticarci quindi ci richiede l'autenticazione arriviamo sulla nostra root questa volta siamo slogged in gli altri stati sono i corsi eccetera eccetera più tutte le altre informazioni avremo la nostra root no che ha l'informazione in location state settata e questo è quello che vediamo lì quindi intanto stiamo facendo pratica anche un po' di debug con il developer tool di react che è sempre utile per riuscire a capire se tutto sta funzionando bene e soprattutto quando non sta funzionando bene e vedete che appunto ci troviamo location l'informazione che passiamo e vedremo poi come facciamo a passare se l'avessimo caricato o direttamente dal browser oppure con il più nel momento in cui arriviamo con il più location contiene uno state che è undefined questo è il motivo per cui io scrivo in questa maniera exam lo passo ma lo passo solo se state non è undefined perché scrivere proprio location state exam nel momento in cui state è undefined fa sì che javascript mi dia un errore cosa che ovviamente non desidero e poi passo alla solita funzione che passavo anche prima ok nello slash uso di nuovo lo stesso sistema e questa volta ho tre casi perché ho voluto forse esagerare se sto facendo il loading allora visualizzo il componente loading che è nient'altro che una diciamo una piccola animazione che vi dice che sta aspettando con il bottone logout che si manifesterà solamente se l'utente è loggato altrimenti se possiamo chiudere no non è il caso di salvare nulla ups lo facciamo andare via ecco così altrimenti come abbiamo visto prima se l'utente è loggato voglio mostrare l'informazione quindi gli exam scores che non sono nient'altro che la tabella degli esami altrimenti faccio redirect a login come faccio a sapere se l'utente è loggato beh in realtà in login status is logged in ma in più ho voluto fare una una seconda operazione ossia passarmi anche questa informazione dal 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 link che mi ha autenticato quindi dentro il login quando avrò il link posso di nuovo passare a uno state prima ho passato l'exam e qui posso dire che state si è logged in questo perché ho notato che alcune volte l'operazione diciamo di impostazione dello stato nell'app era un po' lenta e se is logged in nella forma di login status is logged in non è impostato correttamente voi vi siete autenticati ma finite su redirect e di conseguenza l'applicazione vi sembra non funzionare quindi provate può anche darsi che sia solamente per il fatto che magari avete sbagliato l'ordine di alcune chiamate quindi c'è sempre da verificare come avvengono queste operazioni però è spesso difficile da debaggare diciamo che questo ci da se vogliamo dire così una sicurezza in più da questo punto di vista perché nel momento in cui non vi funziona il login poi non funziona più niente nel resto dell'applicazione perché se il login vi rimanda il login anche se avete username e password corretto chiaramente non funziona più nulla ok quindi qui abbiamo visto il routing forse prima di abbandonare questo file diamo un'occhiata allo user logout che è di nuovo una funzione una funzione che va a chiamare un api user logout e va bene imposta tutte le informazioni andiamo a dare un'occhiata all'api perché come si fa a fare il logout il logout richiede un'interazione col server c'è una root apposta sul logout sul server che fondamentalmente eliminerà il cookie e non abbiamo bisogno di leggere alcuna informazione l'abbiamo fatta come post perché modifica lo stato e quindi è giusto che diciamo sia una post e quindi di conseguenza dobbiamo mettere un body ma l'abbiamo messo vuoto ecco qui viene comodo avere il server possiamo andare a cercare la root di logout quindi cerchiamo logout che non fa niente altro che fare la clear cookie questo è tutto quello che dobbiamo fare e il token è semplicemente perché noi il cookie inizialmente l'abbiamo chiamato token quindi nel login abbiamo deciso di chiamare il nostro cookie token ed è lo stesso nome che troviamo qui in storage token questo è il nome del cookie e che l'abbiamo deciso noi ok quindi possiamo tornare sulla nostra applicazione e andare a vedere il resto per prima cosa andrei a vedere il login ecco qui abbiamo un sistema diciamo un po' più classico della gestione dello stato con gli ux ogni variabile ha il suo nome il suo metodo quindi io fondamentalmente nel login ho una variabile che è quella che mi controlla rarredirect che è login success e mi manda sulla pagina che mostra le informazioni e che nel nostro caso è la pagina slash quindi questo è il modo di implementare un login form login success e ovviamente nel momento in cui faccio la chiamata API user login tutto va bene quindi entro nella promise nel ramo promise risolta scusate più promise diciamo non rigettata quindi nel ramo den farò login success true che quindi mi farà redirect ho voluto sempre per fare un po' di esercizio implementare un ulteriore stato che è il waiting login che diventa false ovviamente quando ho finito di fare le operazioni di waiting ma che viene sostanzialmente utilizzato per disabilitare il bottone di login fino a che non ho una risposta dal server questo è il bottone che fa il login e props waiting login l'ho messo qui per disabilitare il bottone ok infine c'è un boolean che mi serve per mostrare un messaggio di errore nel senso che se c'è stato un problema voglio mostrare un messaggio di errore e quindi se wrong login è uguale a true scriverò wrong username e password riciclando l'optional error message che avevo già creato in exam component e che quindi qui ho importato quindi qui non c'è nient'altro che l'operazione di login con username e password che va poi a chiamare la set logged in user con user object name e user object lo ricavo dall'api quindi dal login login user object sarà la response no response json object e nell'object io so che il server deve mandarmi l'informazione del nome dell'utente server quindi login mi manda il lo user object che in realtà nel caso del server è creato direttamente dal dao quindi lo user object quindi nel check user password il loro user object è creato in questa maniera user id e name quindi avrò user id e name un json uno è lo username che manterrò nel token e l'altro è il nome che invece utilizzerò nell'applicazione per far vedere il nome infatti se andiamo a vedere questo è il nome e questo è ricavato appunto in fase di login o in fase diciamo di recupero delle informazioni quando sono già autenticato login ok quindi questo name è ciò che arriva dal server e il set ops qui mi sa che ho fatto un pasticcio ecco set logged in user è una props che ho passato dal dall'app prima al componente login nel componente login ho passato quindi nel ramo login set logged in user che farà buon uso di questo parametro e me lo imposterà nello stato in user in quello stato che è fatto da un oggetto quindi ricordate per fare redirect al login devo metterlo nel nel ramo in uno dei rami del render quindi siccome io qui ho trasformato tutto in una funzione questa è un componente funzione quindi il return di questa funzione è il render nei componenti class sarebbe render metto render e qui è il return il valore di turn redirect che può essere semplicemente to slash però vi ricordate che prima ho detto io volevo passare in aggiunta a quel set logged in user questa informazione perché volevo essere sicuro perché mi è capitato siccome diciamo la l'operazione di set state che sia con gli ux che sia diciamo con con la set state dei componenti di tipo classe asincrona può darsi che avvenga più tardi e quindi una volta mi è capitato forse comunque è una una cosa in più forse ho sbagliato l'ordine di queste chiamate ma così intanto facciamo pratica su come passare uno stato insieme alla redirect al router e notato che questo stato non compare sulla barra del browser quindi non è uno stato che compare qui sulla barra dell'url è uno stato interno di react perché il router è interno non c'è un ricaricamento vero della pagina è sempre l'applicazione la single page application che sta diciamo gestendo cosa visualizzare se non faccio redirect bene allora mostrerò il messaggio di errore e di nuovo login form eventualmente col bottone disabilitato per un po' il login form non fa nient'altro che usare il login diciamo le informazioni di stato dei due campi username passo che qui ho già presetato per convenienza perché così quando carico l'applicazione faccio le prove c'è già qualcosa scritto e devo solo premere il login forse l'unica cosa che vale la pena vedere che non abbiamo visto la lezione ma è estremamente semplice è che per fare l'operazione di check validity report validity dell'html5 come abbiamo fatto nelle precedenti versioni dell'applicazione ho bisogno di un riferimento all'elemento del DOM perché questi sono metodi dell'elemento del DOM si può fare in maniera tradizionale react create ref ma si può anche usare un look estremamente semplice use ref che di fatto ci da il ref e poi noi lo usiamo e quindi ref uguale form ref non sarà più dis qualcosa perché qui non abbiamo il dis perché ho portato tutto ad essere componenti tipo funzione e poi devo solo ricordarmi che anziché dis form ref qui scrivo form ref punto current senza scordarmi il punto current se no mi dice che poi check validity non esiste non capisco perché divento matto e il codice rimane uguale a prima niente di particolarmente differente update username field update password field qui ci sono due metodi differenti che ho fatto perché avevo il set username e il set password che se tengo separati devo appunto distinguere come metodi avrei potuto metterli anche direttamente qui e quindi fare anche have set password have target value diciamo scelte di implementazione andiamo a vedere ecco c'era ancora un pezzettino va bene logout logout è in realtà estremamente semplice un link a login però devo ricordarmi di fare l'operazione di logout perché l'operazione deve essere fatta sul serve quindi deve essere fatta sul serve perché è solo il serve che può cancellarci il cookie il cookie non è accessibile da javascript vediamolo vedete un cookie di tipo http only sarebbe bene metterlo anche sul secure vero quindi sull'https non lo facciamo ed è tra l'altro il motivo per cui spesso ci vengono fuori dei warning che in questo momento non viene fuori però diciamo prima o poi non si potrà più fare per una questione diciamo di sicurezza mettendo anche il semi site vabbè noi per semplicità lo lasciamo così però siamo coscienti che nel momento in cui andassimo a metterlo su un'applicazione vera dobbiamo avere l'http no scusate il secure true e quindi avere però l'https funzionante ok quindi questa questa è una diciamo possibilità di implementare il meccanismo di logout passiamo ora all exam components che contiene tutti gli altri componenti quindi l'exam table che questo portato sotto forma di funzione ma qui non c'è niente di particolare da discutere è uguale oramai da tempo exam raw exam raw data raw controls ecco in raw controls qui vediamo lo stesso meccanismo che abbiamo intravisto prima un link add update con state exam props exam quindi un oggetto come stato in cui setto le proprietà che desidero exam e lo setto quello che desidero per esempio props exam e questa è l'icona di edit quella che vedevamo prima sull'applicazione ecco questa vedete che è l'update abbiamo cliccato su update e abbiamo visto che c'è arrivato nel location state l'exam e notate non c'è niente sull'url tra l'altro non sarebbe neanche così diciamo carino mettere queste informazioni sull'url sull'url diciamo vanno le informazioni di eventuali richieste di tipo get per esempio per fare filtri e cose di questo tipo url è lo stato di navigazione dell'applicazione questo dell'exam è più che altro uno stato interno diciamo volendo si può questionare se dovrebbe essere uno stato di navigazione o no però diciamo non vedo la necessità di dare la possibilità a qualcuno di usarlo e vederlo come stato di navigazione secondo me può stare come stato interno dell'applicazione tanto è vero che se la lanciamo noi update vedete sparisce perché appunto è uno stato interno lo state è undefined e il resto funziona per quanto riguarda la cancellazione non ho fatto un link perché appunto non c'era necessità di un'ulteriore interazione si può lasciare esattamente come era quindi uno span con non click che va a fare l'azione desiderata ok questo table controls è il più la icon add cioè il più che porta semplicemente all'update visto che qui la cosa è semplice non ho bisogno di creare un oggetto nel to ma semplicemente metto direttamente una stringa che corrisponde all'url exam courses è restato uguale exam form bene è stato adattato anche in questo caso per usare jux ma diciamo come sempre come abbiamo fatto in tutta questa applicazione ma la cosa è abbastanza semplice avete visto che trasformare tutto con user state è relativamente facile anziché diciamo creare il costruttore super impostare lo stato eccetera facciamo new state quello di cui abbiamo bisogno qui ho tenuto exam come oggetto e mi sembra anche ragionevole e non neanche più di tanto forzato e poi c'è lo stato submitted che è quello che mi serve per capire se andare a far la rediret da un'altra parte nel momento in cui il form è sottomesso come facevo per il form di login e poi anche qui ho un form ref che mi serve di nuovo per fare la validità fare il check della validità del form html5 ecco notate una cosa che la ismodify che è quella che decide che cosa fa scrivere sul bottone quindi è quella che decide se qui c'è scritto insert oppure modify questa è calcolata è calcolata da una properties cioè da props exam che non varia perché essendo una props è read only in sola lettura ed è calcolata all'inizio se exam è settato è true e quindi è una modifica altrimenti false e quindi sarà un'aggiunta e questo ismodify verrà poi passato ismodify e exam for controls deciderà controls deciderà se scrivere modify o insert ok quindi questo non è uno stato questo è un calcolo fatto dalla proprietà mi raccomando di non mettere nello stato cose calcolabili dalle proprietà perché sarebbe inutile è uno stato ma in realtà è uno stato derivato quindi di fatto non è uno stato nel senso di react non è uno stato da mantenere nel componente questo codice l'abbiamo già visto diciamo è lo stesso dell'applicazione di prima e poi anche analogo a quello dell'altro form quando abbiamo finito facciamo set submitted e l'altro era set non so più login se era il set era il login success quindi era il set login success che ci faceva fare la redirect e qui in exam component stessa cosa submitted ci fa fare submitted redirect altrimenti visualizziamo il form con le props necessarie tra queste props c'è l'update field e notate come funziona l'update field qui non ho tre props quindi non c'è update course code update score update date ma ce n'è una sola e l'ho gestita così const new exam uguale una copia del vecchio exam che è lo stato vi ricordo che è lo stato e poi name value con questa diciamo chiave calcolata che va a sovrascrivere ciò che c'era in exam e poi vado a fare set exam di new exam perché ricordate questa non fa il merge questa sostituisce quindi se io facessi name value e basta mi perderei le altre due proprietà dell'exam quindi devo fare in questa maniera attenzione create copy of the old object e poi then change the field ok l'exam form data niente di particolare quindi crea il form e va a chiamare gli update quando è necessario eventualmente disabilita la select il controllo abbiamo visto prima il bottone che decide semplicemente se visualizzare modify insert ha un click su insert che è il metodo che abbiamo visto sopra quindi la insert che insert è do insert exam quindi questa e poi abbiamo l'optional error message quindi se c'è un error message da visualizzare il componente viene visualizzato altrimenti no e questo è un normalissimo alert mostrato di bootstrap in cui ci scrivo dentro error grassetto e e poi metto un bottone con la x che mi consente di andare a si la x è questo times questa è la x che mi consente di andare a chiuderlo attenzione questo è uno dei rischi che si corrono con il react e bootstrap senza usare il react bootstrap quindi la versione adattata bootstrap c'è da resettare il messaggio nello stato cosicché la prossima volta error message faccia si che questo venga renderizzato null quindi sparisca non si deve usare no data dismiss che è quello che avremmo potuto scrivere qui con bootstrap standard perché non è compatibile con react in alternativa potete usare il componente react bootstrap quindi attenzione e purtroppo questo è uno degli svantaggi diciamo così di usare il react normale che va bene si può usare perché qui tutta l'applicazione è fatta in react normale però dovete sempre ricordare che il javascript del bootstrap normale scusate voglio dire bootstrap prima e il bootstrap normale non sa nulla del virtual DOM non sa nulla di react e quindi ogni tanto vorrebbe fare le cose per conto suo direttamente sul DOM in javascript e finisce che poi il react però siccome è il suo virtual DOM da cui calcola il DOM va a fare delle modifiche non coerenti il risultato è che le cose non funzionano più quindi attenzione basta saperlo se volete potete fare tutto in react bootstrap bootstrap reactance che è la cosa forse più lineare perché appunto tutti questi problemi diciamo sono già stati risolti nel senso che vi hanno eliminato tutto il codice che poteva dare dei problemi con react e piuttosto vi fate voi il sistema o vi indicano loro negli esempi come fare con react la stessa funzionalità quindi possiamo andare a vedere per esempio cosa ci dice la pagina di bootstrap react sull'alert e quindi ci aspettiamo che per sviluppare il vostro progetto andiate a cercare diciamo nella documentazione come come si fanno alcune cose e quindi bootstrap react alert così arriviamo direttamente a quello che ci interessa quindi react bootstrap kitab alt example links content dismissing ecco questo è quello col bottone no ecco add dismissible prop ok però se guardate l'esempio c'è anche un set show false gestito come stato che non c'era se voi andate a cercare nel bootstrap normale perché il bootstrap normale si gestiva per conto suo tutto via javascript qui invece se vogliamo fare una cosa ben fatta appunto questo è un componente che mostra solo questo io ho fatto un componente che diciamo forse mostrava c'era ancora un div intorno va bene insomma diciamo è fatto in maniera leggermente diversa però fondamentalmente qui abbiamo appunto if show return altrimenti vabbè loro hanno voluto fare il bottone per farlo mostrare così nella pagina vi funziona altrimenti qui potete fare null e una volta sparito è sparito però dovete gestirvi lo stato e qui l'hanno fatto come ux come uc e qui finalmente capiamo che cosa vuol dire questa cosa un componente tipo funzione e hanno fatto l'uc perché altrimenti avrebbero dovuto schierare il costruttore lo stato eccetera e dis e tutto quanto e ovviamente veniva scomodo qui forse cominciate ad apprezzare anche la la diciamo la capacità degli ux di essere sintetici ma allo stesso tempo molto diciamo comodi infine componente loading che qui non fa nient'altro che fondamentalmente far vedere un uno spinner che è già incluso in bootstrap quindi non ho dovuto fare niente in particolare ok abbiamo quindi analizzato tutta l'applicazione nella sua versione ux ma non è difficile andare ad analizzare la versione diciamo router il routing è uguale quindi cambia solo il fatto che ci sono i componenti potremmo a questo punto fare alcuni esperimenti mi piacerebbe farvi vedere che cosa si può fare in parte l'abbiamo già visto per testare un po' l'applicazione che è una parte importante diciamo del processo di sviluppo quindi prima di tutto ok carichiamo la nostra applicazione ricominciamo da capo ci ha portato sul login perché evidentemente era scaduto il token fate attenzione che ogni tanto non è sempre aggiornato ok login ci autentichiamo ecco come vi dicevo appunto non sempre si aggiorna per qualche motivo comunque avete appunto deve esserci nel momento in cui siamo autenticati il token noi possiamo usare l'applicazione come abbiamo già visto nel momento in cui buttiamo via il token facciamo un'operazione quindi questa operazione si può fare di editing perché è uno stato interno dell'applicazione non ha ancora comunicato col server io vi faccio vedere adesso le comunicazioni col server nel momento in cui noi facciamo qualcosa e andiamo a calmare il server vedrete che ci restituisce appunto 401 e tra l'altro ci ha poi fatto una redirect dopo due secondi ecco forse questo ce l'eravamo persi andiamo a vedere dov'è unauthorized e quindi non ci sarà c'è una risposta sì c'è una risposta perché mi piace sempre mettere un json come risposta in maniera che ci sia qualcosa da far vedere quindi se noi andiamo a vedere cosa era successo con più calma quindi devo rifare la stessa operazione di togliere il token fare un editing veniva fuori questo che è il json e poi c'è questo redirect automatico che ho implementato questa è una una prova che possiamo fare andiamo ancora a vedere dove è questo redirect automatico in realtà questo redirect automatico non è un redirect delle route ma è fatto poi ovviamente con le route alla fine ma è fatto sostanzialmente tramite un settaggio di uno stato quindi io ho fatto add or edit exam sono passato qui ero nel ramo edit quindi l'update perché avevo visto che c'era e quindi questo mi ha ritornato vero questo è il sum sull'array e quindi sono andato qui ho fatto l'update l'ho fatto col token scaduto che non è il CRSF token di cui non discutiamo non lasciamo lì così avete anche l'esempio su quello ma non è obbligatorio assolutamente era per dare un esempio completo update exam mi ha restituito il 401 quindi mi ha mandato nel catch per come ho scritto l'API e poi sono andato nel handle errors handle errors se ho un 401 allora vuol dire che non sono autorizzato e quindi vuol dire che devo mandare il login tutti gli altri magari sono errori vari che possono capitare non so c'era il server non disponibile database e così via e allora quello lo visualizzo però non è che non sono autenticato nel caso di non autenticato che non sono autenticato mando sul login e allora come faccio a fare questa operazione beh set time out è molto semplice set time out passo una call back e nella call back vado a fare dopo un certo tempo qui ho messo due secondi un cambio di stato set login status set error message set error message set tutto dico che sono false is logged in e il risultato è che il cambio di stato scattina il render e il render il render è quello del router e il router deciderà quale route visualizzare io ho ero ho fatto quell'operazione del set state no e quindi is logged in false e mi ha mandato sul redirect no scusate sul ero qui e mi ha mandato sul login non c'era e mi ha mandato sul login ok questo perché perché ero su questa route no perché fondamentalmente ho provato l'applicazione no ho fatto questa operazione cancellato il token modificato e sono tornato su questa ok bene vorrei farvi vedere ancora una cosa sul lato del server quindi sul lato client penso che abbiamo esaurito più o meno tutto quello che c'era da vedere questo è il server e può essere utile fare esperimenti diciamo di vario tipo per esempio nel momento in cui voi volete chi so creare un errore di un qualche tipo che so sbagliamo la query apposta faccio salva anzi dove è il salva salva devo andare a rilanciare il server perché non l'ho lanciato con il nodmon quindi lo rilancio però potete farlo con il nodmon così non dovete fare questa operazione tutte le volte io ho sbagliato la query della cancellazione quindi adesso faccio l'operazione server database 0 e potete sempre andare a ispezionare che cosa è successo questo è il response neder 503 service unavailable response database 0 e vedete che questo non fa redirect questo è un errore magari temporaneo perché non so non ci si riusciva a collegare il database lo posso mandar via e così via quindi rimetto a posto e una seconda cosa che vorrei farvi vedere è come fare un po' di debug quindi entriamo sul terminale stoppiamo con control c control c e ferma se andiamo a lanciare e non possiamo lanciare il react e non è neanche tutto questo senso lanciare il react dal del visual studio code ma il server possiamo farlo quindi se noi facciamo sul server start debugging però magari mettiamo un break point da qualche parte tipo catcorsis facciamo così discorsis lancio start quindi assicuratevi che sia partito qui è partito ovviamente dovete chiuderlo dall'altra parte dal terminale non potete lanciarne due sulla stessa porta qui sta girando questo server sta girando adesso posso andare a usare la mia applicazione quindi faccio logout faccio login e vedete che rimango in attesa tra l'altro questo vi serve anche diciamo per capire che cosa sta succedendo qui in realtà ah forse ho fatto anche qualche pasticcio ok niente facciamo pulizia login no allora c'è qualcosa in più oltre a quello che volevo farvi vedere che in realtà non sta funzionando dunque allora probabilmente c'era c'è qualcosa diciamo che non andava perché c'era un qualche diciamo breakpoint ricordatevi sempre di ecco togliamo tutti i breakpoint facciamo una prova diciamo debug start debugging ok è partito facciamo una prova e vediamo se funziona ok adesso funziona vediamo logout di mettere un breakpoint su soccorsi quindi questo è un breakpoint e vediamo che cosa succede ecco avete visto che ci siamo fermati qui l'applicazione è in attesa così intanto vediamo anche questo che non avevamo visto prima e possiamo fare il passo passo entrando nelle funzioni promi eccetera den e qui dovete capire un attimo dove avete poi bisogno di fare il debug ovviamente il codice asincrono non è semplice da debuggare qui esce da tutte le funzioni e quindi qui siamo nel no qualcos'altro ancora ok è tutto codice interno e a un certo punto potete andare avanti e lasciarla andare avanti fino al prossimo breakpoint per esempio possiamo provare a fermarlo su un altro punto quindi disable all breakpoints e che so fermiamolo dunque qui appunto qui è andato a finire dentro a express chissà dove non interessa interessa il nostro codice e per esempio che so nel momento in cui andiamo a fare la modifica quindi ci sarà la put ecco per esempio possiamo andare a mettere un breakpoint qui provare l'applicazione per modify e arriviamo qui e così qui possiamo verificare tutto quello che è necessario e quindi che so nel anche solo passando il mouse bene errors undefined perché non è ancora stato eseguito nulla però possiamo eseguirla e vedere error se un array vuoto quindi poi possiamo andare a verificare cosa c'era nella rec ovviamente nella finestra di debug avete un po' più di facilità io qui ho le font particolarmente grossi quindi ciò non aiuta però voi chiaramente potete andare a vedere tutto quello che c'era il body alla fine è stato convertito come un oggetto potete andare a verificare se l'oggetto è corretto come vi aspettate e così via tutte queste operazioni e potete andare appunto a far poi debuggare il lato server come meglio credete ovviamente non potete metterci all'infinito perché prima o poi le richieste andranno in timeout però diciamo c'è un meccanismo che potete usare per lo meno per debuggare la parte server la parte client essendo react diciamo viene diciamo segnalata come errori come avrete già sperimentato in maniera abbastanza dettagliata del framework stesso di react col create react app per cui diciamo difficilmente vi servirà fare chissà quale debug se aveste necessità potete usare sempre il console log che ovviamente vi stampa sulla console per quanto riguarda la parte del client e quindi sulla console del browser c'è ancora un ultimissimo aspetto che vorrei farvi vedere è che sul server avevo implementato un ulteriore ecco API user che sostanzialmente è quella che serve sul client nel momento in cui siamo autenticati come dovremmo essere in questo momento se non è ancora scaduto il token quando ricarico la pagina adesso qui ho ancora c'è un'altra anzi non ho più il server che gira temo e quindi sarà meglio andarlo a lanciare ok quindi in realtà appunto qui vedete interno al server error poi andate a vedere la risposta e la risposta è scritta dal server interno di react quindi questa la trovate qui nella nella finestra dove avete lanciato react perché non c'era il server che girava e quindi io che uso il proxy mi ha detto che il proxy ha provato a contattare l'altro server e l'altro server non ha risposto adesso però l'ho lanciato e quindi se ricarico la pagina va bene non non me l'ha più presa ma se ecco io faccio questa operazione adesso rifaccio questa operazione vedrete che è andata a chiamare questo user perché io quando ricarico qui sulla barra dell'ur ricarico tutta l'applicazione quindi tutto il javascript dell'applicazione e l'applicazione non ha lo stato deve inizializzarsi lo stato e allora ho deciso che siccome nello stato mi serviva il nome dell'utente e la vedete la risposta qui mi facevo un api addizionale per andarmi a recuperare il nome dell'utente ok e tra l'altro mi serve per due scopi sia per recuperare il nome dell'utente sia per capire se l'utente è autenticato oppure no perché se io ricarico con l'utente non autenticato ovviamente non deve mandarmi sulla pagina dell'informazione ma sulla pagina di login e questo è stato ottenuto sul lato del server in questa maniera sul lato del server ho scritto una normalissima get api user siccome questa get viene dopo che è stato installato il middleware jvt richiederà che la richiesta sia autenticata con jvt e poi come faccio a recuperare l'informazione di qual è l'utente bene l'informazione dal token jvt si recupera in questa maniera se io non ho impostato altri parametri va a finire dentro rec user se la richiesta è autenticata ma questa richiesta è autenticata perché io l'ho messa dopo che ho installato quel middleware di sopra allora per evitare diciamo questo è più che altro per prudenza diciamo così per evitare che diciamo questo non sia settato ma deve esserlo settato perché se richiede il jvt se non mi avrebbe fermato prima comunque se per evitare che io faccia appunto user id su un undefined ho messo questa sintassi mi vado a recuperare lo user id e poi vado sul database dallo user id a recuperarmi il nome e la load user info sul database quindi nel dao load user info va a fare una normalissima query username name e mi da lo username e il name e lo ritorna indietro e lo ritorna come json lo user object è quello della resolve altrimenti 503 ok c'è stato qualche problema il non autenticato viene fuori di qua perché è questo il meccanismo che viene usato per intercettare il non autenticato del jvt infatti viene 401 e questo outer object l'ho deciso io e ho deciso di farmelo così in modalità il più possibile compatibile a quello del validation error così ho riciclato il codice sul lato del client di handle error che così funziona per tutto quanto sia se c'è un messaggio del json particolare sia se c'è l'authentication error eccetera insomma è un codice unico per gestire tutti i potenziali problemi anche i potenziali problemi di bypass della validazione lato client quindi quello che viene fuori dal check sul server della validazione dei campi per esempio dell'inserimento dell'esame ultima cosa dove ho usato questi api sul client in api get user info che richiama user effect con l'array vuoto che quindi equivale ad un componente hit mount di un componente classico di tipo class e quindi se da promise è fulfilled quindi è non da errore io farò login status stocked in true e metto lo user info name che mi arriva da questa api che va a chiedere al server altrimenti diciamo rimane come prima se c'è un problema di autenticazione eventualmente lo dico e faccio redirect sul form del login abbiamo visto quindi insieme diciamo il funzionamento di questa applicazione di esempio che ci siamo portati dietro per diciamo tutto il corso abbiamo visto ovviamente la versione react che è quella che ci interessa di più vi ricordo che sul git trovate tanti altri esempi incluse le soluzioni dei temi d'esame sono tutte possibili soluzioni inclusi i nostri esempi alcuni più complicati come avete visto appunto il react scores con la sua parte server alcuni un po' più semplici per esempio client server example che però spero vi serviranno di ispirazione e di diciamo di 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 aiuto nello sviluppare il diciamo il progetto finale per per l'esame vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che c'è sempre il canale slack a disposizione in caso di dubbi o domande e avremo ancora comunque una lezione live chiamiamola lezione ma in realtà diciamo una sessione di domande risposte a valle della pubblicazione nel primo tema d'esame che che servirà diciamo a sintonizzarci bene su quanto sarà richiesto per l'esame stesso grazie grazie a tutti